Ciao a tutti, eccoci in questo nuovo video di OneFootball Finalmente siamo ritornati su OneFootball Come avevo detto, con però solo le partite che ci saranno Perché oggi è l'ultimo giorno di mercato Farò giusto gli altri video se ci saranno delle notizie eclatanti di mercato Ok, quindi iniziamo Serie B Parana Club, Sampaio Correa 1-0 Joinville, Baia 1-1 Hawaii, Luverdense 2-1 Paesandu, Tupi 0-3 CRB, Allo, Oeste 3-1 Nautico, Londrina 0-2 Vasco da Gama, Villanova 1-2 Bragantino, Brasil 0-2 Goyas, Criciúma 1-1 J League 2 Roasso, Kumamoto, Eime 1-2 Amichevole per club Basilea, Oelen alle 16.30 Lokau, Reindorf, Altac alle 18.15 Luke and Weld, Amateur Union, Berlino 19.30 De Buu Pokalen, Listrup Randers, Frederik Zweig, Lingby, Arby Flemlose, Eschberg, Lieseng, Orsens, OKS, Viborg tutte alle 17.30 Alborg Freya, Arus alle 18.00 Amichevoli internazionali Estonia, Malta 17.30 Repubblica cieca, Armenia 19.15 Norvegia, Belorussia 19.30 Danimarca, Leinstein 20.00 Turchia, Russia, Albania, Marocco alle 20.30 Germania, Finlandia e Irlanda Oman alle 20.45 Coppa del Rei, Andorra, Hercules, Caudal, Burgos alle 18.00 Atletico Cirbonero, Ponferradina 19.00 Amore Vieta, Soquel Amos, Atletico Sanguntino, Formentera Formentera, Boiro, Guiuleo, Sestao River, Villa de Santa Brigida Tutte queste alle 20.00 Baracaldo, Zamudio, Caloar, Longrones, Laredo Cultural Leonesa, Leida Prat Tutte le 20.30 Cornela, San Sebastien de los Reyes Lorca Deportiva, La Oia Lorca alle 20.45 Albacete, Real Union, Extremadura, Atletico Mancio Real Racing, Club Ferrol Zamora tutte le 21.00 Atletico San Luqueno, Real Murcia e Toledo Conquenze alle 21.30 Superettano, Warbergs, Bols, Orgrite alle 19.00 Regional League, Sud-Est, Stoccarda, Teutonia, Watzeborn alle 19.00 Coppa Sud-Americana, Coritiba, Vittoria alle 22.00 Queste erano tutte le partite di oggi Come ho detto farò appunto solo farvi vedere quali saranno le partite Perché il mercato finisce oggi Farò qualche altro video del mercato oggi se ci sono altre notizie Quindi se vi è piaciuto questo nuovo video iscrivetevi e lasciate un like Ci vediamo, ciao a tutti